Finalmente è arrivato il mio regale in anticipo. Praticamente mi sono presa Muninex Masterchef Gourney che è un'impastatrice. Adesso ve la faccio vedere in funzione. Qua ho già montato il gancio. Questa praticamente è l'impastatrice che userò, siccome sono un pasticcere, mi farò tante ricette e le posterò anche su YouTube. Questa è la guarnizione, allora qua c'è un ricettario con delle ricette. Questa è la frusta per montare la panna e i componenti liquidi. Questa è la foglia che userò molto. Questa è un trit a carne, trit a formaggio che sarà usato con questo geogio qua. Quello è il coperchio e questo è un frullatore. Sono veramente contento. Ben arrivata a casa. Muninex Masterchef Gourney.